Pronti per questo giro! Pasquale! Pasquale, vero! Pasquale! Con una risalita verso le Rocche Gianche per scendere poi dai Ponti Romani che si sta avventurando lungo il percorso dei non vedenti. Quindi, salita veramente dura ma molto bella e panoramica. Qui vedete una vera biker che si cimenta con queste salite tecniche. Grande! Giro a sinistra! Magica! Brava! Grande! Vai, vai, continua! Vai, 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 vai! Giro a sinistra! Giro a sinistra! Giro a sinistra! Giro a sinistra!